Amore, non so perché, ma non mi sento tranquilla. Anche io non sono tranquilla. Facciamolo ancora. Oh no, aspetta. Facciamolo ancora. Allora, ognuno entra nella propria stanza. Chi vi sorprende urla, l'altro arriva. È chiaro? Chiarissimo. Senti, perché non chiami Angelo e senti dove stanno? Dopo, dopo, dai. No, allora guarda Fabrizio, faccio così. Che vuoi Gabriele, dai? Ma questa è la sua verità, Gabriele. Oddio, sono tornati prima, presto. Fabrizio, nasconditi. Ma che cazzo stai a dire? Questa è camera mia, nascondate te. Angela, che sorpresa. Una bella improvvisata. Sei solo? Eh? Sei solo? Ma che domanda mai fai? Certo che sono solo, ma tu come mai sei tornata? Io ho dimenticato la borsa. Eh. Ma Lisa dov'è? Lisa dov'è? Eh, Lisa dov'è? Eh, che ne so. Vabbè che devo riuscire un rapporto, ma mica posso stare con lei tutto il giorno, scusa. Che fai? Eh, eh, cerco la borsa, forse qui sotto. No, no, qui non c'è. Cos'è questo? Eh, una gomma. Ah. Buono, una fragola. Meno male che sei tornata. Tu, mi resta, andiamo a pranzo. Sì. Ma com'era questa borsa? La mia, la solida, quella nera. Dove si sarà cacciata? Ah, forse nell'armadio. No, non c'è. Andiamo a mangiare che c'ho una fame. Nel bagno? No! In bagno no! E perché in bagno no? E perché? Ho sentito urlare, è successo qualcosa. No, è che Angela cerca la borsa in bagno. Ma non si può entrare perché l'Arsettio mi ha chiamato per dirmi che è pericoloso. Ah. E perché? E perché? Perché stanno facendo un'operazione alvetica di spurgo centralizzato. E allora dice che quando meno te l'aspetti, il water tracima. Ce l'avete presente il Vesuvio. Invece di lava, merda, ma gli usa, eh? Ebre-bri, correrò a questo rischio. Gabriele, a volte nella vita, quello che può sembrare nero, invece è bianco. E non è con la violenza che si può tentare di risolvere i problemi che nascono da questo punto di vista. Non c'è. I problemi che alla base... Non c'è? E tu sei sicura? Hai guardato bene? Sì, guardato bene. Se non c'è, non c'è. Ma dov'è? Gabriele, siete rientrati prima. Perché? Oh, stadi a te, eh. È che non posso stare senza di te.